Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il Grande Fratello ha annunciato che una seconda concorrente, dopo Clarissa Burt, ha lasciato la casa. Si tratta di Ilaria Clemente, le cui motivazioni per l'uscita temporanea non sono ancora chiare. Tuttavia, i fan del programma si stanno ribellando, sostenendo che il reality sta diventando sempre più simile a un hotel, dove i concorrenti entrano e escono a loro piacimento. Questo va contro lo spirito del programma, che dovrebbe isolare i partecipanti dal mondo esterno. Dopo una puntata turbolenta, Ilaria Clemente ha abbandonato improvvisamente il Grande Fratello per motivi personali, come comunicato ufficialmente. Questa uscita inaspettata ha sorpreso i fan che erano già rimasti perplessi per l'uscita di Clarissa Burt la settimana scorsa. Le spiegazioni fornite dalla produzione sono state minime, alimentando ulteriori dubbi sulle nuove modalità introdotte dagli autori. Sui social si susseguono ipotesi sulle reali ragioni dell'uscita di Ilaria Clemente, tra cui una presunta gravidanza della concorrente. Tuttavia, al momento, queste voci non sono confermate dalla produzione. Molti utenti social esprimono perplessità riguardo a queste uscite temporanee dei concorrenti, sostenendo che il Grande Fratello stia perdendo il suo vero spirito. I fan del programma hanno il diritto di protestare e gli autori dovrebbero prendere in considerazione queste critiche. Il Grande Fratello dovrebbe essere un'esperienza estrema e isolata dal mondo esterno, non un luogo dove le regole possono essere piegate a piacimento. È importante che il programma mantenga la sua autenticità e che i concorrenti vivano veramente l'esperienza del real.